Sto partendo per un lungo viaggio. Potremo non tornare mai più. Chi di voi è esposto a venire con me. No, no, tu non puoi, mamma mia, non puoi! Ma tu chi cazzo sei? Io sono il Monty! Sto il pozzetto tra queste mura! Ma che cosa ne faremo di tutta questa dinamite? Ma segua quella macchina! Presto! Ah, non ce la faranno mai quei due. Ah, è anche così! Ma cambia! Ma cambia! Attra herzlich! Grazie a tutti